Benvenuti gentili telespettatori a questo nuovo appuntamento di Focus. Oggi abbiamo avuto in studio l'ingegnere Romano, amministratore delegato della SMAT, Società Metropolitana Acque Torino, che ci ha un po' spiegato quanto sia complesso l'approvvigionamento idrico dell'acqua nella nostra città e per circa 286 comuni e più di 2 milioni e 200 mila abitanti, problemi che riguardano il trasporto dell'acqua, la sua potabilità. Per quanto riguarda la palatabilità abbiamo anche scoperto che c'è una scuola dei sommelier dell'acqua, proprio per cercare di rendere l'acqua del nostro rubinetto, l'acqua potabile, la più gradevole possibile, un'acqua estremamente controllata, certamente un'acqua più sicura dal punto di vista organolettico, tant'è che abbiamo scoperto anche quante oltre 500 mila analisi ogni anno la SMAT effettua e abbiamo anche saputo che nei controlli che la SMAT svolge vi è anche quello della ricerca di sostanze stupefacenti, soprattutto dei metaboliti della cocaina, circa 60 mila sono risultati, le posizioni, gli utenti in un bacino che comprende, oltre che la città di Torino, anche nei comuni limitrofi. Questo purtroppo un triste indice di quanto sia diffuso l'uso della droga e in modo particolare della cocaina nella nostra città e nella nostra area metropolitana. Ma abbiamo anche imparato cose importanti che intanto la SMAT ha dato l'acqua agli astronauti e questa acqua è servita per le missioni nel 2011 e sappiamo anche che la SMAT continua ad effettuare dei controlli, ha un codice etico per cui cerca di formare il personale, di svolgere un'opera di formazione e di informazione soprattutto negli insegnanti delle scuole dell'obbligo. Prima di salutarvi voglio darvi una notizia interessante che riguarda una protesta dei medici, che riguardano circa questa mala sanità, questi processi pendenti a carico dei medici, soprattutto dei medici ospedalieri e dei chirurghi, tale per cui si è svolta una manifestazione importante dei medici ospedalieri alla Città della Salute, l'ospedale Molinette di Torino, alla presenza del viciministro della giustizia, i medici propongono un fondo di risarcimento per i danni contro le denunce per cause infondate. Sappiamo che molte volte si effettuano delle denunce a carico dei medici, anche a scopo rivendicativo e a volte queste denunce vanno a fondo perduto perché per fortuna si riesce a dimostrare l'innocenza del sanitario e il fatto che il reato non è stato effettuato. Sono 31.500 mila le denunce all'anno contro i medici, 4-5 anni è il tempo medio della risoluzione delle cause nelle quali spesso il medico viene sospeso dalla sua attività o viene in qualche modo perseguito anche dal suo ordine professionale. Certamente un problema che deve essere affrontato, che deve essere risolto per ridare serenità ai pazienti, sapendo appunto che il medico agendo in scienza e coscienza cerca evidentemente, o almeno nella stragrande maggioranza dei casi, di agire per il meglio del paziente. Termina quindi qui questo appuntamento di focus, lascio adesso la linea a Cristina Colette e al suo Naturalis, noi ci vediamo domani sera sempre alle 20.30 e sempre su Quarta Rete TV. Buona serata.